Ciao a tutti amici, benvenuti su Forest Ranger Simulator Io ringrazio Kimi e FreeMind Games per avermi dato la chiave del gioco per il beta testing Onestamente ero curioso di provare un po' com'era il gioco E quindi ho detto perché no, vediamo un po' com'è la situazione Sono molto curioso La traduzione in italiano lascia un po' il desiderato, effettivamente Però, vabbè Vediamo un po' nuovo gioco Facciamo il percorso di missione Vediamo cosa riusciamo a combinare Insomma C'è scritto che è anche per rinassarsi Vediamo se è così Ma ci ho messo troppo tempo per caricare Ho sentito il rumore di una macchina che si distruggeva L'ho vinto sto concorso Ah, si chiamava praticamente di Ranger Una foresta che conta su di noi Premendo Q vediamo anche quella di rifiuti Perfetto Possiamo vendere e comprare Possiamo tagliare determinati alberi Questi qua passiti sono contrassegnati Una roba da caricare ancora La macchina quando la apriamo Che c'è scritto? Vabbè Abbiamo usato gli ucciclini Abbiamo spegnito i fuochi Questi li riparai Oh Eppure una mappa di cose Ok Ottimo Che succede? Che? Andate nella foresta e raccogliete 5 kg Di rifiuti di plastica e metallo E' una madonna Ok Quindi Uno Plastica e metallo quindi si tu Ok Plastica e metallo Beh tu Ti butto già qua dentro E' una roba di coglione Un donaro Eh ci sa zio per 5 kg di merda Dove la pigliamo 5 kg di roba? E' una figa carina E' una figa carina E' una figa carina E' una figa carina deh Dove c'è Dove c'è un binghino Perché sei tu? Ma dove c'è un binghino? E' una figa carina è una figa carina Certo che sta gente non sa che si raccoglie la roba, ho capito, ok 2 kg di plastica, ho capito, però insomma, vediamo se do quello che riesco a vedere l'altra monnetza, no, bellissimo, è il monnetza simulator signori, questo è fatto apposta per completare la missione, lo dico io, mi manca una sfaccima di plastica, proprio 1, dimmi che c'è la monnetza, su, ditemi che avete lasciato giusto una lattina di merda, bastardi, cioè se non l'avete fatto sono contento, ma se l'avete fatto, ma porco dici, ma guarda che schifo, vergogna, Ma guarda quanta roba, azze, meno male che ero venuto a cercare una cosa, che è pieno, guarda qua, pure nell'acqua quasi, madonna che merda, vergognatevi, ne sono arrivato con 4 kg, quasi 5, ne sono arrivato con 10,37, cioè ho 10, vabbè, avete capito, insomma, torniamo a casa, Ok, quindi, per il momento faccio, mannaggia, Allora, aspettate un attimo, ma se io andassi al computer, Che è sta roba, mo? Aspettate un attimo, Oh, ok, quindi, se io mo esco, Non c'è nessuno, non c'è nessuno, Qual è il simeno? È questa, cazzo, Che? Che ha detto? Ok, quindi, Io mo, se io butto questo qua dentro, no? Eh, vai! You get a new hand in the forest! Ah, ah! Hai da roba, uh, cazzo, mo! No! Vabbè! Eh? Che cazzo? Vabbè! No! Mannaggia la miseria! Va bene! Dobbiamo andare a mangiare, Agli uccelli! Quindi, Tutto questo! Ok! E faccio così! Bono! Bono! Not bad! Ok! 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 Va bene! Ah! Devo portare questo coso, Dove stanno dei fiori? Ok! Va bene! Avevo visto dei fiori da qualche parte, Laggi in fondo, mi sa, Se mi ricordo bene, Dov'erano? Dov'erano sta zona? Eccola! Eccola! Ecco, ecco, ecco! Tu vada! Che casa, così! Va bene! Gapì, sono contento, Mi fa molto piacere! Warning forest! Che? Qualcuno Sta a bruciare Che vuol dire che sta a bruciare Oh cazzo Devo torno a casa Ma fa passare o no Devo torno subito a casa Devo prendere un estindone che stava all'inizio Congress Certo che se questo qua Cioè se questo qua Invece di Congress Si mette qua due panorama Ecco così è bellino Perfetto Ho il fuoco da questa parte Annaggia stusone Si ma quanto è lontano Forza Corri un poco Santo cielo benedetto Per dove si va Annaggia stusone Ok sono abbastanza vicino Ma? Perfetto Eh certo Eh certo Eh certo Però Ce l'abbiamo fatto Ma ingazziamo il signore Come posso prendere sta merda Ah Non ce l'abbiamo comprato Eh Vabbè Vabbè sentite Tu Vai qui Tu Vai qui Tu Può andare qua Vai qua Vabbè io lo coi goglioni Tu Vai qui Tu Può andare qua Addio Tu T'ho detto Tu Che puoi fare? Vai Tu Puoi andare qua Perfetto Tu no Tu sì Tu puoi andare qua Divento un'asta Pogatti Vaffancona Rompermi i coglioni Eh Vabbè Va anche tu qua Mi interessa Perfetto Andiamo un attimo Al computer Così noi vendiamo Tutto questo E ci facciamo dei soldi Così mi compro Due cose innanzitutto C'ho un e-mail Va bene Ciao Bye Homestuff Cos'è? No no Vado Vabbè Tutto ciò che non ci serve No Per adesso Ci serve Un piede di porco Assolutamente sì E una torcia Assolutamente sì Perfetto Ottimo Spare parts Va Ok Allora con i soldi Sì qua ci compriamo questo Tu vai qua Perfetto Vai puro tu Tu puoi andare qua No Tu Vai direttamente F Addio Oddio Cazzo è Che cosa ti posso vendere Ma vai qua subito Che vederci Andiamo a vendere un attimo Per una cosa Perfetto Un'asta anche a te A me lo butti così Qua Certo che siete proprio dei pezzi di merda Ok Dobbiamo andare Appena Prendo Queste trappone Per orsi Mi è arrivata pure la torcia Aspettate Dov'è sta torcia Perfetto Oh Per Che bello Finalmente Almeno la torcia Il voto è di me E vaffanculo Ma no Scusa Dobbiamo trovare Le trappone Che sono vicine ai funghi Certo che pure voi Ecco qua Madonna Addio Oddio Vabbè Vabbè È andata Insomma Perché vi fate problemi Scusate Io non me ne faccio Perché vuoi sì Ecco un'altra Perfetto Perfetto Ottimo Ok Molto bene Va bene Ragazzi Per me Il video può finire qua Può che ci sarà un'altra Task Non mi interessa Io Sto contento così Ho fatto il mio No Non mi rompere parli Va benissimo così Va bene Ma posso vendere questa? No Ancora muovendo Eh va bene Lo tolgo Perfetto Va bene Ok Ma Ma se io vorresti comprare un letto Almeno il letto Voglio dire Cioè se uno vuole dormire Così ma è giusto che C'è un letto Non esiste Ci sta il divanetto Oggi dormi Stasera dormi sul divano Ah beh Un email Vabbè Va bene ragazzi Ancora per me Il video può finire qua Mi è piaciuto Mi è piaciuto abbastanza Però c'è un problema di ottimizzazione Assurdo E Mi dà molto fastidio Perché in questo gioco Ci ho messo la mente In anima Di Dio E Che più No no Che più Che dire Sono Sono rimasto Assolutamente Contento Devo dire Che effettivamente È abbastanza Rinaissante Anche se i comandi A volte Lasciano un po' A desiderare Vabbè Però Questo gioco è In beta adesso Beta testing Uscirà in In Reaccess In 25 aprile O il 24 O il 25 aprile Tanto lo scriverò Nella descrizione Quindi ragazzi Per me Il video può finire qua Se questo video vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Commentate E noi ci vediamo Sul prossimo video Ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti